I rapporti con gli Stati Uniti possono cambiare da questo voto oggi? Questo dipenderà dall'esito del voto ovviamente e dipenderà dalla politica che vorrà essere messa in atto da chi gli elettori americani sceglieranno come loro presidente. Noi abbiamo constatato come europei un sostanzialmente inedito interesse da parte dell'amministrazione americana nel corso di questi ultimi paio d'anni, mesi, proprio quelli della crisi economica. L'impressione è che gli Stati Uniti abbiano compreso che di fronte alla crisi economica e finanziaria la risposta in Europa veniva principalmente e soprattutto dall'azione corale nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi abbiano visto l'Unione Europea in una sua luce concreta che forse in precedenza, ricordiamo tutti le antiche battute di spirito sulla chi chiamare eccetera, al di là del chi chiamare l'Unione Europea fosse molto importante per il superamento della crisi da parte dei paesi che ne fanno parte. Abbiamo constatato come Italia questo anche direttamente, i contatti tra il nostro presidente del Consiglio e il presidente Obama sono stati come sapete estremamente frequenti, ricordate allo SCABOS anche il ruolo più particolare che fu dato al nostro presidente del Consiglio nel presentare una parte della situazione negli incontri, quindi abbiamo anche visto direttamente questi interessi. Noi ci auguriamo come italiani e come europei che questo possa rimanere quale che sia il risultato che gli elettori vorranno dare.